Corrado Landolina, anni 54, avvocato, sindaco di Zambrone dal 2016, presidente del Consiglio provinciale dal 30 gennaio 2023. Prima domanda, prima stoccata. I risultati delle ultime elezioni provinciali salvano certi equilibri politici e consolidano la tua posizione. Il segreto, come fai ad andare d'accordo con tutti? Diciamo che è stato un anno travagliato quello che abbiamo passato, però è anche vero che il Consiglio ha sempre deciso, non è mai saltato una seduta di Consiglio e siamo riusciti a deliberare atti particolarmente complessi e tutt'altro che scontato. Non soltanto il primo reale bilancio dopo la fuoriuscita dal dissesto, ma anche un piano di dimensionamento scolastico che è costato lacrime e sangue e che non era affatto scontato, considerato che c'è stato il 33% dei tagli delle dirigenze, che il Consiglio lo licenziasse con una maggioranza diciamo abbastanza tutto sommato ampia. Un anno difficile, ma in qualche modo siamo riusciti ad andare. Dopo gli anni bui, sanato il bilancio provinciale, restano grossi problemi che la provincia deve affrontare. Parliamo della rete viaria, della messa in sicurezza delle strutture scolastiche e l'emergenza regionale, l'emergenza delle emergenze, che è il sistema depurativo provinciale. Più volte con te abbiamo parlato del sistema depurativo sulla costa degli dèi. So come la pensi. Ecco come intendi affrontare queste problematiche di particolare importanza. Sono domande davvero complesse tutte quante, meriterebbero ognuna di esse un approfondimento. Cerco di essere sintetico e di venire al dunque delle questioni che mi vengono poste. Viabilità. La viabilità è la funzione principe delle province e quindi non può che occupare la maggior parte delle risorse, anche politiche, umane, professionali. Io dico che è stato un anno straordinario e se non dicessi questo non direi la verità. Io firmerei per avere altri tre anni come questo perché le opinioni sono sicuramente soggettive, ma i dati no, i dati non dicono bugie. I dati dicono che grazie all'emendamento Mangialavori 1, circa 750-800 mila euro di finanziamento, all'emendamento Mangialavori 2, 4 milioni e mezzo ad hoc per la viabilità provinciale di Vibbo. Grazie alla Regione Calabria circa 3 milioni per la strada di Polia e di Maiarato sono oltre 8 milioni di risorse straordinarie ad hoc non frutto di bandi o di altre provvidenze, ma di risorse straordinarie che la provincia è riuscita a reperire. Grazie certamente all'onorevole Mangialavori, grazie certamente alla Regione Calabria, ma grazie certamente evidentemente a un percorso di credibilità che la provincia ha intrapreso. La Regione e il Governo nazionale hanno fatto semplicemente il loro dovere, guardare con attenzione la provincia di Vibbo Valencia, inchiodata agli ultimi posti per qualità della vita, reddito pro capite, servizi di qualità, quindi hanno fatto il loro semplice dovere. Adesso vanno spesi, come tenere fuori la criminalità organizzata da questi ambiziosi progetti? Sì, vanno spesi e io dico sempre che gli enti hanno una capacità di spesa, gli enti locali, i comuni e le province hanno capacità, sono gli unici soggetti che hanno una capacità di spesa anche in termini rapidi, tutto sommato, in linea con le aspettative della comunità e con quelli che sono i vincoli della legge. Come tenerli fuori? Beh, io voglio ricordare che abbiamo stipulato un importante protocollo di legalità grazie anche al lavoro straordinario della Prefettura che ci permette di utilizzare tutta una serie di accorgimenti e di barriere che certamente impediranno qualsiasi fenomeno distorto. Messa in sicurezza delle scuole? Ma qua è stato fatto un lavoro straordinario prima di me, bisogna dirlo perché bisogna anche riconoscere quelli che sono i meriti dell'ente. La programmazione di chi mi ha preceduto e il lavoro straordinario degli uffici della provincia è davvero incomiabile. Su questo hanno partecipato a molti bandi e hanno vinto tanti bandi e di questo non posso che ringraziare la burocrazia provinciale in modo particolare che è stata attenta, solerte e non si è fatta sfuggire nessuna occasione per procedere in questa direzione. Sistema depurativo provinciale in ginocchio, si spendono i soldi e è male. Sul litorale molti depuratori sono sottodimensionati, anche il tuo Corrado. Il tuo è quello di Tropea. Almeno così dicono i tecnici. Il mare sporco è un fatto obiettivo, certificato anche da centinaia di turisti che lasciano i resort dove prenotano. Quindi per risolvere questo problema definitivamente, anche perché ci sono dei comuni che addirittura non hanno neanche l'autorizzazione a sversare i liquami dentro le condotte fognarie. Come intende risolvere questo problema? Allora, relativamente al mio comune posso serenamente affermare senza paura di essere smentito che è uno dei migliori impianti di depurazione della Calabria. Semmai abbiamo avuto in passato un problema non di sottodimensionamento, ma di sovradimensionamento. Perché il mio depuratore... Ma io parlo nel periodo d'estate. Sì, sì, nel periodo d'estate. Anche nel periodo d'estate va a regime, ma rimane anche là in pieno regime nel periodo estivo, proprio perché era stato concepito prima di me in funzione consortile. Quindi è un depuratore, diciamo, da questo punto di vista eccellente. E' un depuratore sul quale abbiamo investito tantissime risorse. Da quando sono sindaco io avremmo investito circa 800 mila euro per la manutenzione. E quindi mi sento di affermare che se c'è una cosa che a Zambrone funziona è il depuratore. E su questo non ci sono dubbi. Che poi ci siano altri tipi di problemi, lo sappiamo bene e siamo cercando di intervenire. Ecco come intendi risolverli, anche perché l'estate è alle porte ormai. No, allora, per quanto riguarda il problema dell'estate, noi da questo punto di vista, depuratore, stazioni di sollevamento, siamo attrezzati abbastanza bene. Ci sono dei problemi strutturali che adesso stiamo monitorando, grazie anche al lavoro straordinario che fa l'ufficio tecnico, che è già iniziato a farlo l'anno scorso, per tutte quelle aree che purtroppo non sono collettate. E stiamo verificando caso per caso anche le abitazioni private, se sono in regola, oppure no. E lo stiamo facendo, è un lavoro che praticamente non si è mai esaurito. Però è un problema, questo diciamo così, strutturale, nel senso che anche qua abbiamo più volte, abbiamo anche dei progetti specifici che punterebbero a collettare quelle tre aree del comune che ancora non sono collettate, risolte alle quali il problema di depurazione praticamente a Zambrone sarebbe pari a zero. Già adesso devo dire che è molto, ma molto contenuto almeno rispetto ad altre realtà, posso dire che sicuramente siamo molto avanti da questo punto di vista. E strago due domande che mi pare siano due grandi emergenze provinciali. Parlo della tangenziale Est costata parecchi milioni di euro e dell'Ex 522. Come interverrai su questi due progetti che ti piange il cuore vederle in quelle condizioni? Allora, dobbiamo però essere precisi su questi punti. Io cerco di essere precisi. Io lo so... Ma tu mi puoi anche correggere se stanno... No, 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 no. Voglio essere precisi. Per quanto riguarda la tangenziale Est, noi siamo soggetto avvalso. Che cosa significa? Significa che il soggetto attuatore, che è il commissario straordinario per l'emergenza idrogeologica quindi una struttura sostanzialmente regionale, si avvale appunto si chiama ente avvalso di professionalità presente nella provincia per mandare avanti la procedura, quindi il soggetto responsabile non siamo assolutamente noi Noi... Ma cosa farete? Vi incazzerete? No, no, no questo è un passaggio fondamentale la nostra capacità decisionale è sempre limitata appunto noi siamo soggetto avvalso non siamo soggetto né responsabili né attuatori, quindi per questo è importante chiarire i termini del problema dopodiché mi risulta che gli uffici hanno anche recentemente scritto alla Regione Calabria per chiedere delle risorse aggiuntive perché in seguito alla revisione dei prezzi dell'anno scorso, se non ricordo male l'anno scorso è evidente che le risorse disponibili non sono sufficienti, quindi che ci dicessero se dobbiamo ridurre il progetto se arrivano risorse aggiuntive cioè cosa dobbiamo fare visto che non siamo noi soggetti attuatori non abbiamo quindi siamo in attesa decisionale Ex 522 è uno schifo questa strada l'altro giorno ci siamo sentiti anche con te è una strada che ha delle criticità evidenti e sarebbe sciocco negarlo però anche qua devo dire anche perché sei sindaco di Zambrone sì sì devo dire anche qua che chi mi ha preceduto ha provveduto ad una programmazione buona per cui sono disponibili 2 milioni di euro oltre IVA che noi abbiamo già appaltato e a giorni fatte le verifiche burocratiche a giorni dovremmo fare la consegna dei lavori credo che i lavori inizieranno a breve a brevissimo prima dell'inizio io spero prima dell'inizio della primavera per poi essere sospesi presumibilmente verso metà giugno a fine giugno perché col trappico sulla 522 certi tipi di intervento non si possono fare quindi speriamo di fare 2-3 mesi di lavori per superare le criticità più evidenti e più acute e rimandare gli altri interventi a stagione finita un'ultima domanda il pericolo per ogni amministratore è la criminalità organizzata tenerla fuori dall'amministrazione provinciale in passato non è stato facile ecco per il futuro cosa intendi fare i protocolli li abbiamo visti ecco c'è da fare ancora molto anche perché gli appalti saranno tantissimi ma diciamo che in questi casi quello che bisogna fare è seguire la legge scrupolosamente seguire la legge scrupolosamente e raccordarsi con le istituzioni per cui per ogni minimo dubbio per ogni questione che dovesse sorgere io ho degli interlocutori diciamo naturali che sono la prefettura sono la magistratura sono le forze dell'ordine e ci si tutela in questo modo voglio anche ricordare però un altro dato che siamo stati forse alla prima provincia certamente una delle prime per quanto riguarda il protocollo è una delle prime in Italia a fare il protocollo anche con la guardia di finanza appena mi sono insediato proprio per avere oltre che quel protocollo formale che si applica in procedure come l'avendamento mangiare lavoro sugli appalti eccetera per avere un'interlocuzione più pitta anche diretta meno burocratizzata per cercare appunto di prevenire questi fenomeni buon lavoro come sindaco di Zambrone e buon lavoro come presidente dell'amministrazione provinciale grazie grazie a lei grazie